Allora, in The Division il mondo 5 è uscito e anche la fortezza di Black Tusk ma forse forse la cosa che mi interessava di più di questo aggiornamento era il cecchino esotico e infatti andremo a vedere come si ottiene. La prima cosa da fare se non siete pipponi è far partire la fortezza di Black Tusk. Quando arrivate nel punto in cui bisogna disattivare la prima torretta entrate nell'edificio in cui c'è il computer, salite le scale e sopra il letto troverete la chiave che ci servirà più avanti. Voi continuate tranquillamente la vostra missione, entrate nell'overcraft e una volta entrati nell'overcraft dove c'è la prima stanza dove spawnano mille mob, una volta puliti sulla sinistra troverete una porta che potrà essere aperta soltanto se avete la chiave. Da questa stanza troverete una cassa d'armi con all'interno un SR1 dal nome un po' strano che non sono in grado di pronunciarvi senza almeno impapinarmi con la lingua 6-7 volte quindi vi lascio l'immagine che facciamo prima. Voi vi raccogliete il vostro SR1 dal nome strano, siete lì, guardate un po', guardate i talenti, guardate la descrizione, il secondo passo da fare qual'è? smantellarlo, ebbene sì, smantellarlo proprio a cazzo duro, prendete e tenete premuto, smantellate senza saperne leggere né scrivere e via. Se l'avete smantellato a cazzo duro vi dà al 100% il mirino del cecchino esotico, se non l'avete smontato a cazzo duro ve lo dà lo stesso perchè dovete smantellarlo né più né meno. Il secondo pezzo invece lo droppate dal campidoglio che è della canna, non quella da fumare ma la canna del fucile, e lo droppate semplicemente uccidendo il boss della blacktask. Anche qui credo che la percentuale di drop sia del 100% Adesso troviamo il primo problema, nel senso per droppare il terzo pezzo bisogna completare Roosevelt Island e deve essere però invasa dai blacktask. Questa settimana Roosevelt Island non è invasa ai blacktask, quindi o aspettate la rotazione delle missioni invase, oppure dovete trovare qualcuno nel cui mondo abbia ancora quella missione con dentro i blacktask. Se no, se la fate normalmente o anche a difficoltà più alte, non avete nessuna possibilità di droppare il terzo pezzo. Mettiamo caso che siete riusciti a scroccare la missione a qualche vostro amico o a qualche strano, siete riusciti a fare Roosevelt Island invasa, avete droppato anche il terzo pezzo, siete lì belli tutti esaltati, ma no, c'è un altro problema e probabilmente del problema più più grosso. Ora come ora il progetto, mi vuole dirlo, ma a quanto parlo non sembra che sia droppabile. Né io né altri streamer o youtuber famosi sono riusciti a dropparlo anche facendo le missioni invase, anche facendo l'ultima roccaforte invasa. L'unica è che la massive o stia aspettando la rotazione delle roccaforte invasa oppure sia un bug. Comunque non lo so, non ho più pallida idea sinceramente. Fatto sta che ora come ora avete tre pezzi su quattro del cecchino esotico e quando si avranno ulteriori notizie potrete completarlo senza troppe difficoltà. Io vi ringrazio per aver guardato il video, mi farebbe piacere se lo condividete, se lasciate un like, che se venite a trovarmi su Twitch, ma soprattutto... Yeah! Byeiii! Ciao!